Soprattutto dopo questi dieci anni che possiamo dire sono stati gli anni dell'infanzia del Parco dei Mestieri, sta a cuore perché adesso arriva il momento importante, quello dell'adolescenza, quello che può diventare critico e invece noi riteniamo che debba essere ulteriormente un momento di propulsione. Proprio l'altro giorno ho scritto al direttore del Gifoni Film Festival che era venuto l'anno scorso anche per prendere conoscenza della nostra realtà, il Gifoni Film Festival è il numero uno dei festival per ragazzi diciamo e riteniamo che l'originalità del Parco dei Mestieri possa essere in un certo senso seguita, può essere un modello. Noi riteniamo che il contenuto didattico di questa iniziativa sia estremamente importante perché imparare facendo, mettendoci le mani, avendo la fortuna di avere dei maestri come al Parco dei Mestieri si hanno è una preziosità da conservare e soprattutto come dicevo nell'adolescenza, della maturità dove siamo già proiettati a quel periodo da irrobustire. Io credo che siamo sulla strada giusta, visto che siamo qui nel parco del Vescovo mi sembra significativo gli altri anni lui c'era qui ma oggi è in Messico, mi sembra significativo sottolineare anche questa sincronia e sintonia visto che il Messico è il paese ospitato da questa sessantaduesima edizione. E perché no? Magari parlerà anche del Parco dei Mestieri e dirà ai cittadini di una metropoli in Mesa come città del Messico che potrebbero riservarsi qualche angolo di riflessione, di didattica, di prospettiva. Credo che l'uomo in tutto il mondo abbia bisogno di questo, ma l'uomo del domani c'era proprio un bellissimo articolo su sette, l'ultimo numero, saranno i ragazzi a salvare in chiave ecologica il nostro mondo. E noi abbiamo fiducia di questo e noi siamo operatori con questa iniziativa e questa logica. Grazie a voi dell'attenzione e sono sicuro che il 25 aprile festeggia in maniera degna questa candelina che io vorrei accendere e non spegnere.